Si è già partito, si sta registrando adesso, già? Non si è già partito. No, non si non siamo. Chioletino sanata, non si non si non, non si non. Non si non. Chiedi, non si non sono tutti. Non, vedi, non si è orizzato. Non, 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 non sta un giusto? tre minuti ho detto, devono fare una ripresa da tre, sono già stanco a tenere solo sul telefono un'altra parte Ok, 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 ok. No, 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 no.